Hamas non è più nella lista dei gruppi terroristici dell'Unione Europea. Il Tribunale Generale dell'UE ha spiegato di aver preso la decisione per un vizio di forma. La presenza sulla lista nera era basata su imputazioni fattuali ricavate da mezzi di comunicazione o da internet e non su elementi esaminati in modo concreto, ha spiegato la Corte. Di fatto rimane il blocco del patrimonio di Hamas in Europa. Il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, aveva rilanciato nella sua ultima visita nei territori la necessità della nascita di uno Stato palestinese e il principio di Gerusalemme capitale di due Stati. La decisione della giustizia europea è stata condannata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e salutata come una vittoria da Hamas, nel giorno in cui i palestinesi propongono all'ONU una risoluzione sulla fine dell'occupazione israeliana.